Buongiorno e benvenuti nel primo video del nostro canale. Io sono Valentin, tecnico software e hardware della Comosoftware e oggi andrò a presentarvi brevemente la nostra azienda e vi presenterò anche il nostro canale e quello che faremo d'ora in voi. La Comosoftware è un'azienda operante nel campo dell'informatica ormai da 15 anni. Ci occupiamo prevalentemente di assistenza e riparazione materiale informatico. Ma non solo, grazie ad un ampio spazio adibito alla vendita al dettaglio riusciamo ad offrire una vasta gamma di computer di tutti i tipi ma anche tanti accessori per andare a coprire ogni vostra necessità. Ora abbiamo deciso di aprire questo canale YouTube per riuscire ad avvicinarci ulteriormente a voi. Mi piacerebbe molto andare a testare insieme a voi tutti i vari prodotti che andremo a mettere in vendita da adesso in poi siccome già ora, prima di metterli in vendita effettivamente, li andiamo a provare per verificarne l'effettiva qualità. Inoltre faremo insieme anche dei test tecnici sui vari computer che andremo a sistemare e a velocizzare per mostrarvi come anche un computer di qualche anno fa può ancora tornare utile e può essere sfruttato per fare diversi lavori. E perché no? Andare ad analizzare e a discutere tutte le varie novità del mondo dell'informatica. Detto ciò, io vi ringrazio per aver seguito questo video e vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella per tutte le notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati sui vari video che andremo a portare. Grazie e alla prossima!